Ciao ragazzi e benvenuti su Castiub Drums, nel video di oggi come potete vedere qui dietro non ho una batteria normale ma ho la Tama True Touch, non la vedete troppo bene perché ancora non si vede tutto quanto, ma tra poco la vedrete voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato questa Tama True Touch ma come potete vedere in questo pacchettino qua non ci stava la Tama True Touch e non ne ho uno di pacchettino ne ho bensì due perché insieme alla Tama True Touch, stavo dicendo di Tama ma ovviamente di Tama ho preso anche i piatti, i piatti low volume perché questo video è un video dedicato al basso volume quindi ho preso il low volume di Zillion, ho preso Ride, Crash e Charleston e ovviamente ho già montato tutto come si può vedere, come si può intravedere quindi questo video vuole essere un video per chi sta cercando una batteria perché questa in realtà è una vera batteria di Pado, comunque una batteria silenziosa questa Tama True Touch ho voluto provarmela bene, bene 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 prima di fare il video quindi l'ho suonata un bel po' e devo ammettere che è forse la batteria che più mi ha stupito come sensibilità la batteria che più assomiglia a una batteria vera, cioè una batteria acustica quindi oggi voglio spiegare tutti quanti i componenti di questa batteria, tutte quante le figate e le non figate di questa batteria ovviamente trovate tutto in descrizione, vedrete che questa è una batteria con un prezzo più alto rispetto alle altre batterie di pad allora perché questa secondo me, ve lo dico già da subito, non è una batteria di quelle da portare in giro perché comunque ha un certo peso, tiene uno spazio abbastanza limitato ma comunque un po' di più delle batterie normali quindi è una batteria da studio ma devo ammettere che è l'unica batteria di pad con cui mi sentirei molto 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 tranquillo a studiare qualsiasi cosa, dal rimbalzo ai generi musicali, al rimshot, a qualsiasi tipologia di cosa quindi non voglio tenervi qui altro tempo e spiegarvi ancora un po', andiamo direttamente alla batteria quindi mando la sigla e poi ci spostiamo su questa Tama True Touch insieme ai piatti Zillian Ed eccoci qua con la nostra batteria silenziosa, questa Tama True Touch che allora per prima cosa voglio farvi sentire subito una delle cose che sinceramente vi interessa di più e cioè quanto rumore, tra virgolette, fa questa batteria voglio farvelo sentire in un modo per il quale capirete, per il quale si dice, vabbè, per il quale capirete subito qual è la differenza di rumore tra batteria acustica e Tama True Touch cioè vi faccio sentire una parte in cui suono la batteria, prendo un mio video in cui ho suonato la batteria facendomela sentire solo con i due panoramici e poi vi faccio sentire una parte in cui suono questa batteria solo sentendo i due panoramici perché oggi non sono andato a mettere microfoni eccetera eccetera ma uso solamente i due panoramici che ho qui sopra per cercare di capire al meglio come suona questa batteria quindi cominciamo a sentire la batteria acustica ok, molto bene, adesso vado a suonarvi questa Tama True Touch ovviamente i microfoni hanno sempre lo stesso livello di volume sentite qua ok, molto bene, adesso vado a suonarvi questa molto bene, come potete sentire il livello è veramente molto 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 più basso il volume è molto più basso infatti adesso non vi farò sentire questa batteria sempre a quel volume perché altrimenti diventa un problema questo era solo per farvi capire qual è la differenza di volume tra una batteria acustica normale e questa Tama True Touch insieme a questi piatti low volume di Zillian adesso voglio parlarvi però pian pianino di ogni singolo pezzo della batteria voglio partire da questo rullante che questo rullante è un pad molto particolare veramente super 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 pesante quando l'ho preso in mano ecco come al solito ecco un'altra bene molto bene, bravo Luca quando l'ho preso in mano ho detto porca miseria, cioè è veramente pesante è il pad più pesante che abbia mai utilizzato di sicuro perché per riuscire diciamo a dare questo tocco questa sensibilità molto simile a una batteria acustica un rullante acustico ci sono varie cose in mezzo ci sono varie gomme proprio in mezzo qui prima di questa pelle mesh e in mezzo al rullante proprio in mezzo tra le due gomme diciamo che poi non so che gomme siano ma comunque questi due materiali ci sono anche delle sfere metalliche per dare il senso di rullante quel sentite che è un po' rullante da marcia diciamo e questo è molto figo soprattutto quando andiamo a suonare delle gosto comunque dei colpi in mezzo a rullante quando andiamo a fare un groove questa cosa si perde un pochettino questo devo dire che è un peccato perché questo suono è molto carino qua va a perdersi un pochettino con tutto il resto però comunque ovviamente è un pad non è un rullante quindi la cosa ci sta questo pad qui ha anche la possibilità tramite queste chiavette tramite queste viti continuo a chiamare le chiavette si chiamano viti di accordarlo più alto più basso e soprattutto di avere una tensione maggiore o minore io ad esempio per come suono io l'ho teso il meno possibile perché mi piace avere una tensione diciamo bassa soprattutto in fase di studio per non avere troppo rimbalzo da parte del rullante rimbalzo che devo dire all'inizio subito appena l'ho suonato ho detto non mi fa impazzire il rimbalzo del true touch perché non mi sembra uguale a un rimbalzo di un rullante mi sembrava molto più rimbalzoso diciamo mi sembrava che la bacchetta rimbalzasse molto di più rispetto a un rullante normale perché questa superficie è abbastanza dura ma in realtà mi ha fregato la cosa che sembrasse dura perché quando lo suoni per un po' poi ti accorgi di fare più fatica rispetto a un pad normale rispetto a un pad più duro quindi devo dire che si avvicina molto si avvicina molto al rullante molto molto interessante questo rullante qua questo true touch questo è il pad AAD mi sembra me lo so scritto AAD ci ho anche azzeccato molto bene figa anche la cosa del rimshot cioè questo ha un cerchio in gomma che è molto interessante questione cassa allora anche qua la cassa il pad della cassa è molto morbido e ricorda veramente tanto molto più morbido di quello del rullante ricorda veramente tanto una pelle da cassa anche qua ci sono delle gomme in mezzo più strati di gomma per ricordare bene la pelle della cassa e soprattutto molto molto interessante il sostegno per cassa che per prima cosa può essere regolato quindi possiamo andare a posizionare il pad più in alto più in basso e soprattutto le gambette della cassa tengono proprio ancorata la cassa per terra tra gambette e viti di quelle che ci sono per andare ad ancorare proprio bene l'asta al tappeto devo dire che muove ma non va mai avanti asta della cassa che è non proprio agganciata ma appoggiata a quest'asta del tom che tiene tutti quanti i tre tom e sui tom ragazzi devo andare a fare degli appunti veramente super positivi perché i tom sono dei pad molto particolari mai visti sono dei pad proprio completamente nuovi da 8 8,5 e 9 pollici cambia poco come pollici ma questo l'ho tirato male perché sono un po' stupido ok questi allora ragazzi io dei pad per tom come questi qua sinceramente non li avevo mai visti come sensibilità perché proprio si può sentire che questi pad sono proprio morbidi e ricordano tanto 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 un tom devo dire che guardate la differenza corullante come sensibilità sono tutti uguali però devo dire che sono ottimi sono praticamente hanno anche loro due strati di gomma che in realtà se si vuole si possono anche vedere ma sono incollati quindi lasciamo perdere e veramente molto interessanti questi mi hanno proprio lasciato di stucco ottimo questione piatti probabilmente molti di voi li conosceranno già questi sono tutti low volume di Zildian e questi piatti bucarellati low volume 80 e 80 è la percentuale di rumore in meno che fanno rispetto ai piatti normali non so se sia proprio l'80% quindi giudicate voi però devo ammettere che comunque i piatti suonano veramente molto 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 meno e più che altro abbiamo un piatto che ha la possibilità di essere suonato come ride come crash campana cioè ovviamente raga è normale che in una batteria muta diciamo come questa qua non riusciamo ad avere il bilanciamento perfetto tra i suoni perché perché in generale i piatti suonano un pochettino più forte rispetto allora rispetto ai tamburi questo è normale però raga ci sta più che altro abbiamo dei tamburi adesso che rispondono molto 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 bene dei piatti che ok suonano un pochettino più forti dei tamburi ma secondo me sono ottimi più che altro come suono sono ottimi poi ne esistono un po' di tipi non ci sono solo questi Zildian multi ce ne sono di varie dimensioni di vari modelli vi lascio un po' di roba qui sotto vi lascio sia gli Zildian sia degli altri anche gli UFO ho fatto un video ve lo lascio qui sotto in descrizione sono veramente molto interessanti più che altro costano magari anche meno rispetto a questi Zildian comunque vi lascio tutto qui sotto in descrizione e devo dire che mi ha piacevolmente stupito mi aspettavo di ricevere un prodotto buono come questo qua un prodotto ottimo direi perché secondo me è uno dei pochi prodotti che ho provato fino adesso come batterie di pad che valga veramente la pena avere in casa e utilizzare per studiare veramente non per fare gli esercizietti che poi la sensibilità non è la stessa rimbalzano nello stesso ma per studiare veramente come se si avesse una batteria ovviamente senza fare rumore quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che questa Tama True Touch insieme ai piatti low volume di Zildian vi sia piaciuta vi siano piaciuti tutte e due Tama e Zildian io vi chiedo qui sotto di lasciarmi un commento vi ricordo che trovate tutti i link in descrizione e vi ricordo soprattutto che questo è uno strumento ovviamente che ha un costo non bassissimo ma è uno strumento appunto come vi ho detto che non è una di quelle robe che pigli monti butti di qua butti di là te lo porti in giro eccetera questo serve secondo me per lo studio a casa per lo studio quando non si ha la possibilità di suonare la batteria quando non si ha la possibilità di suonare ad alto volume con questa Tama True Touch e con questi piatti Zildian avete tanto 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 meno volume e soprattutto avete la sensazione di suonare veramente una batteria come ho detto all'inizio video è la prima volta che mi trovo a dire una cosa del genere perché è la prima volta che ho suonato una vera batteria senza fare il casino senza fare il rumore voglio fare i complimenti soprattutto a Tama per aver trovato questa nuova soluzione di batteria silenziosa voglio ringraziare tantissimo strumenti musicali punto net per come al solito darmi la possibilità di provare tutto quello che voglio questo è uno strumento che volevo veramente provare da un po' di tempo beh da quando è uscito mi sono preso bene volevo provarlo volevo prenderlo volevo capire com'era quindi grazie mille strumenti musicali punto net noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale di andare sui social tutte quante le robe che già sapete quindi fatele mi raccomando che è molto importante noi appunto ci vediamo al prossimo video ciao